cosa le diciamo e quanti anni hai scusa no no chiedo mica peraltro hai già provato a cantare in passato hai già fatto altre cose non si sente quindi per quello che chiedevo per me questo pezzo fa il paio con quello di mina di prima è talmente un monumento che è talmente difficile talmente comunque comunque complimenti per la scelta e per l'esecuzione grazie erika complimenti elisa grazie grazie a voi